L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni. Aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Ciao Marco, buonasera a tutti coloro che sono in collegamento con noi su Antella TV. La situazione, come l'abbiamo detta l'altro giorno, lo diciamo anche questa sera, siamo con dei chiariscuri. La Liguria non sta andando male, non sta andando benissimo Chiavari, però andiamo a vedere poi con ordine i dati. L'Italia anche qui ha dei chiariscuri a livello di dati, naturalmente. Si sta avvicinando anche a dirsi il periodo natalizio, il periodo in cui avremmo voluto essere covid free, come Lavagna, per esempio, come stai dicendo tu questa sera. In realtà non è assolutamente così. La discesa è molto lenta di questi attualmente positivi. Anzi, alcuni giorni cresce il numero degli attualmente positivi, ma adesso andiamo con ordine per capire insieme come sta andando questa pandemia, aggiornate il 15 di dicembre, Marco. Guardiamo col grafico della protezione civile, con la tabella che riassume tutti i numeri della protezione civile, per vedere insieme che oggi abbiamo registrato 25.789 persone guarite nelle ultime 24 ore, un numero che risale, quindi il primo dato che diciamo ormai da marzo, il primo dato dei guariti giornalieri. Sì, siamo oltre un milione e centomila guariti dall'inizio della pandemia e quindi se i numeri sono numeri, il numero dei guariti è già abbastanza importante, ma non cresce tantissimo. Come non decresce tantissimo il numero degli attualmente positivi? E partiamo con il grafico numero uno per capire esattamente come si sono ritrovati oggi i tamponi. Oggi i tamponi positivi giornalieri sono a 14.844, oggi è martedì, quindi è normale che cresca il numero rispetto al giorno precedente, perché lunedì di solito è proprio il dato più ridotto, più basso della settimana. Lo vediamo, è oggettivamente in discesa il numero dei tamponi che si vedono giorno per giorno, lo vedete da sinistra verso destra, l'andamento è in decrescita e possiamo aggiungere fortunatamente. Però, se andiamo a vedere i tamponi, il grafico 3 Marco, il grafico 3 ci dice quanti tamponi sono stati fatti oggi, 162.880, quindi è un aumento, registriamo un aumento rispetto a ieri, non siamo ai numeri delle scorse settimane, del mese scorso, delle scorse settimane che raggiungevamo e superavamo i 250.000 casi giornalieri di tamponi fatti, naturalmente, lo ricordiamo, parliamo dei tamponi tradizionali, quelli da laboratorio, non quelli rapidi, né tanto meno quelli sireologici. Per quanto riguarda quindi il rapporto fra questi due dati, col grafico 8 lo vediamo come sempre insieme, con gli stellini in rosso vediamo comunque un dato, questo è positivo, cioè scende sotto il 10 in maniera importante, siamo al 9,1% di che cosa? Lo spieghiamo ogni volta, questo è il rapporto fra i positivi tamponi positivi trovati oggi e i tamponi totali fatti nelle 24 ore. Se invece andiamo col grafico 9, il grafico 9 ci parla invece di positivi sui nuovi casi testati, questi sono coloro i quali sono stati oggi positivi testati le persone, trovate oggi positive e testate per la prima volta, il famoso numero dei tamponi positivi esclusendo i tamponi di controllo. E siamo al 23,6%, ecco il dato sulla destra. Andiamo a vedere il dato provincia per provincia, non numerico ma grafico, col grafico 10. Il grafico 10 fa vedere un'Italia, quindi a livello provinciale, che riporta i dati non di oggi ma degli ultimi sette giorni, quindi proprio il trend dell'ultima settimana. I positivi per 100.000 abitanti, lo vedete, la situazione in Liguria è rosea, lo vedete proprio rosea anche a livello proprio cromatico, una situazione un po' meno rosea invece è nel, ad esempio, nord-est italiano e in qualche provincia del centro-sud, come potete vedere in base all'intensità del rosso, equivale a un maggior numero di positivi per 100.000 abitanti. Questo è un po' il quadro dell'Italia. Andiamo a vedere altri dati della nostra Italia, partendo dal grafico 2, Marco. Il grafico 2 registra proprio l'andamento degli attualmente positivi. Questo è un altro dato che si conferma in discesa, lo vedete lì sulla destra, l'andamento di quella linea blu, fa vedere che stiamo scendendo. Gli attualmente positivi oggi in Italia sono 660.000 e qualcosa, quindi è un dato che va bene così, che sta scendendo, anche se scende molto lentamente, lo diciamo sempre. Anzi, troppo lentamente, aggiungo io. Il grafico 4, parliamo adesso di ricoverati in malattia causa Covid negli ospedali, in questo caso in repari di terapia intensiva. I repari di terapia intensiva oggi sono occupati da 3.003 persone, lo vedete lì sulla destra. Una linea che in questo caso sta scendendo, oggi scende di 92 posti letto liberati, però scende, lo vedete, in maniera abbastanza lenta rispetto alla salita, che è un pochettino più, lo vedete, più impennata, diciamo così, più ripida. Andiamo a vedere col grafico 5. Il grafico 5 riporta giorno per giorno l'andamento delle terapie intensive, il numero delle terapie intensive che siamo ancora oggi in decrescita, anzi, proprio oggi è il giorno più basso dell'ultimo mese fra i giorni, come numero scusate, di ricoverati in terapia intensiva. Oggi meno 92, l'abbiamo detto prima, ed eccolo lì graficato. Grafico 6, grafico 6 riporta invece il dato dei ricoverati con sintomi, quindi non in terapia intensiva, ma purtroppo sempre in ospedale causa Covid. Lo vedete lì sulla destra, meno 423 posti letto liberati oggi rispetto a ieri in tutta Italia. Sono in totale 27.342 pazienti malati di Covid in reparti non di terapia intensiva, ospedalieri, quindi subitensiva. Questo è un po' il quadro degli ospedali italiani. Andiamo col grafico 7 invece, parliamo di decessi. Oggi purtroppo non abbiamo una buona notizia, perché torna a salire anche in numero preponderante il valore dei decessi quotidiani. 846, lo vedete sulla destra, cresce in maniera importante, abbiamo detto, torna a essere come valori sulla passariga di quelli della scorsa settimana e quindi purtroppo non vediamo ancora la luce in fondo al tunnel. E poi sul discorso dei cessi ora faremo un approfondimento importante, perché sono arrivati anche in dati dell'Istat, che è giusto approfondire. Oggi abbiamo questi valori a livello nazionale. I valori regionali, il grafico 00 li riassume e li andiamo a leggere insieme. Parliamo di regione Liguria, naturalmente la nostra regione, che registra 202 nuovi tamponi positivi nelle 24 ore. Però, confrontando con i tamponi fatti, 3.899 nelle ultime 24 ore, in notevole salita, come giusto che sia, rispetto al dato di lunedì, abbiamo una percentuale fra positivi e tamponi fatti pari al 5,18%. Quindi il valore Ligure, finalmente, è nettamente da alcuni giorni, addirittura da un paio di settimane a questa parte, è inferiore rispetto alla media nazionale. Abbiamo 165 persone in meno fra gli attualmente positivi in Liguria, 8.115 è il totale degli attualmente positivi. Abbiamo 839 ricoverati in tutta la Liguria, 14 in meno rispetto a ieri. Di questi, 71 sono in terapia intensiva, che è questo un valore che decresce di poco, due unità, ma decresce. Purtroppo rimane sempre elevato il numero dei decessi, come a livello nazionale era elevato, elevato anche a livello Ligure. 20 persone, purtroppo, nelle ultime 24 ore non ce l'hanno fatta, per quanto riguarda il Covid. Andiamo a vedere, Marco? Andiamo a vedere. Vi illustro io il dettaglio per quanto riguarda la nostra ASL. La nostra ASL 4 Chiavarese ha registrato oggi 21 nuovi casi di Covid-19. un valore, diciamo, coerente rispetto ai valori dei giorni precedenti. E tra le altre cose abbiamo anche 98 persone in ospedale, 98 persone in ospedale di Sesti Levante e di Lavagna, e 7 di questi sono in terapia intensiva a Sesti Levante. Questo è un po' il quadro della nostra ASL di competenza. Domande, Marco? Andiamo a vedere, allora, come è messa la Liguria a livello, col grafico 12, a livello di incidenza. Questo è il famoso grafico, famoso. Uno dei grafici che ogni tanto vi facciamo vedere, che raggruppa tutte le regioni italiane, lo vedete, i puntini sono le singole regioni, in base al, diciamo, il dato dell'incidenza, cioè quante persone si sono ammalate di Covid ogni 100.000 abitanti nelle ultime due settimane in orizzontale, e in verticale invece l'incremento percentuale dei casi, sempre ogni due settimane, dato tra il 7, nella settimana, scusate, non due settimane, questo è il settimanale, dal 7 al 14 di dicembre. Allora, per farla breve, noi abbiamo una zona verde dove si trova una serie di regioni. L'Abruzzo, la Basilicata, l'Umbria, la Toscana, la Lombardia, finalmente in zona verde, secondo questi dati. La Valle d'Aosta, che aveva proprio bisogno di questa informazione, e anche la nostra regione Liguria, è in zona verde, finalmente. Chi è in zona rossa? Beh, le regioni che, come abbiamo visto prima, hanno ancora un aumento importante di positivi giornalieri, e stiamo parlando del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, ma anche della Puglia e dell'Emilia Romagna. Sono tutte regioni in zona, in questa zona rossa. Questo per quanto riguarda la suddivisione in regioni. Allora, adesso vi voglio parlare, e iniziamo con la tabella 19, di decessi. Perché vi voglio parlare di decessi? Perché l'Italia, purtroppo, non è messa bene, non è messa bene ad alcune settimane, come numero di deceduti totali e giornaliere. Rispetto a che cosa? Rispetto a, intanto, le altre nazioni europee, come ad esempio la Germania, e tra poco andremo a vedere un raffronto, ma in generale anche rispetto alla mortalità che si è soliti registrare anno per anno in Italia. E chi lo registra? È l'Istat che registra questo tipo di dato. Ed eccolo qua, il primo riassunto che assumiamo dal report fatto da Istat e Ministero della Salute. Aumento dei decessi. Lo leggiamo insieme. Il periodo che andiamo a leggere è fra gennaio e settembre. 2020 rispetto agli anni precedenti. Allora, in questo periodo, quindi gennaio e settembre, esclude tutta la fase 3, praticamente, o quasi, tutta quella che stiamo vivendo in questo momento. E registra, per quanto riguarda i dati ufficiali di decesso Covid, 37.000 decessi. Poi, l'extra mortalità rispetto agli anni precedenti, però, questo è diffuso da Istat, è stato stimato pari a 48.000 decessi. Quindi c'è un'extra mortalità molto forte che poi bisognerà andare ad attribuire, se accorre al Covid o ad altre malattie. Intanto, con lo grafico 20, con la tabella 20, andiamo a vedere quello che Istat e protezione civile, per quanto riguarda i dati Covid, hanno diffuso. Allora, intanto leggiamo che i decessi 2020 sono a confronto con la media tra il 2015 e il 2019. Lo vedete nella prima colonna, sono i decessi mediannui nel periodo 2015-2019. Ok? Seconda colonna, i decessi di quest'anno, 2020, e poi, naturalmente, calcolano la differenza. Infine, l'ultima colonna riguarda i decessi esclusivamente Covid, diffusi dalla protezione civile. Se noi andiamo a vedere il periodo, come vedete lì sulla sinistra, gennaio-febbraio, nella media annuale fra il 2015 e il 2019, si era fermata a 125.000. È andata meglio nel bimestre, gennaio-febbraio, in quest'anno, nel 2020, lo vedete. Nel 2020 avevamo registrato, tra virgolette, solo 116.529 decessi. Quindi quest'anno è iniziato bene da questo macabro dato. Addirittura, con una differenza, lo leggiamo insieme, di oltre 9.000 decessi in meno. E c'erano solo 29 decessi Covid, tra gennaio e febbraio. Poi, se andiamo giù di sotto, nella riga sotto, fra marzo e maggio, invece, il numero dei decessi mediani, tra il 2015 e il 2019, è salito, perché ogni anno sale, causa e influenze stagionali. 160.000 in quel periodo. Ma guardate come sale nell'anno 2020. 209.670. Quindi c'è un surplus, e lo vediamo nella differenza, di 48.877 decessi. Tantissimi. Però 48.877 è quello che diffonde Istat. Ma quello che ha diffuso, come dato, la protezione civile, lo vediamo nell'ultima colonna, è 33.386. Quindi un numero più basso, nonostante sia molto forte come numero. Quindi cosa vuol dire, per farla breve? Che abbiamo una mancanza, quindi, e sono sottostimati, per dirla in parole povere, i numeri che la protezione civile, raccogliendo i dati da ogni singola unità ospedaliera, ha diffuso e diffonde da quando è iniziata la pandemia. Addirittura, leggendo l'ultima riga, si stima ancora una differenza molto importante. Non peraltro abbiamo 21.562 decessi Covid da aggiungere solo nel periodo settembre-dicembre a quelli che usciranno dai dati Istat, che verranno diffusi poi a febbraio-marzo, per quanto riguarda l'ultimo periodo dell'anno in corso. Quindi abbiamo una serie di numeri, quando si parla di decessi, molto forti, ma non sono, in realtà non sembrerebbero così, per farla breve, lo specchio della realtà, ovvero la realtà potrebbe essere ancora peggiore dei dati che vengono forniti dalla protezione civile, questo secondo i dati Istat. Se poi andiamo a vedere con il grafico 21, con la tabella 21, di cosa si muore, lo vedete in fondo, intanto vediamo il Covid, la stima del 2020, supera addirittura gli 87.000 decessi, secondo il ragionamento Istat, che viene analizzato in questi giorni. 87.000 morti solo causa Covid. In realtà poi ci sono tutti gli altri decessi, causa, ad esempio, lo vediamo insieme, la causa più alta di decessi è l'infarto e alte malattie ischemiche del cuore, secondo posto è l'ictus e alte malattie cerebrovascolari, poi ci sono i tumori maligni, naturalmente, all'apparato digerente e peritoneo, i tumori maligni all'apparato respiratorio, i tumori della donna seguono come la mambella, gli organi genitali, poi ci sono i traumi, traumi e avvelenamenti è un numero importante di decessi, anno per anno, le polmoniti, le bronchiti, le influenze, è un numero relativamente basso, naturalmente parliamo sempre di decessi, quindi le malattie anche alle vie respiratorie alte sono sui 16.000 decessi l'anno e poi ci sono le malattie infettive che siamo sui 14.000 decessi l'anno. A tutto questo si aggiungono gli 87.000 decessi per Covid del 2020, quindi a chi dice che il Covid è una semplice influenza che non genera più di tanto problematiche oppure decessi, beh, è meglio che si ricreda, almeno secondo i numeri che vengono diffusi dagli organi ufficiali, che sono appunto Istat, Ministero della Sanità, eccetera. questo anche per corroborare una scelta, una serie di scelte che qualcuno a livello politico o strategico sanitario prende o ha preso o dovrà prendere per quanto riguarda appunto la riduzione al minimo di questi decessi causa Covid naturalmente. Gli altri decessi purtroppo anno per anno si sviluppano e quest'anno anche, anzi, tra le altre cose dobbiamo sottolineare il fatto che l'attenzione, lo stress, la concentrazione degli operatori sanitari verso le malattie Covid possono aver, uso il termine possono per eufemismo, aver distratto, aver ridotto l'attenzione verso coloro i quali sono malati di altre malattie importanti come abbiamo appena letto che possono portare comunque alla morte. Quindi anche il discorso di dire una persona anziana è morta ma c'aveva già altre malattie quindi sarebbe morta comunque è un discorso altamente cinico e in umano ma non solo è anche concettualmente e a livello sanitario sbagliato perché? Perché se non ci fosse stato il Covid magari quella stessa persona avrebbe potuto ricevere delle cure migliori oggettivamente migliori magari avrebbe avuto qualche aspettativa di vita più lunga. Andiamo un attimino a vedere Marco il grafico 24 il grafico 24 come accennavo prima mentre parliamo parlando purtroppo sempre di decessi permette a confronto i dati italiani con i dati tedeschi e volevo parlare dei dati tedeschi proprio perché in questi giorni come sapete la Merck era presa una decisione molto rigida ovvero sia quella di instaurare un lockdown praticamente totale fino al prossimo 6 di gennaio in Germania proprio perché si sta acquendo si sta aumentando il numero degli attualmente positivi e anche dei decessi però che cosa? Guardate un po' il confronto dei due grafici quello sopra e quello dell'Italia e quello sotto quello della Germania l'Italia ha registrato un elevatissimo numero di decessi purtroppo nella prima fase un altrettanto elevato numero di decessi in questa terza fase lo vedete sulla destra mentre la Germania sembra simile è simile il grafico ma è più basso a livello di numeri anche perché la scala non l'ho riuscita a leggere ma è nettamente diversa cioè la Germania nella prima fase ha raggiunto al massimo 480 decessi giornalieri invece noi abbiamo superato i 900 decessi giornalieri quindi anche per quello la Germania diciamo è messa meglio anche dal punto di vista dei decessi e nonostante quello hanno deciso si è deciso a livello politico di chiudere più che in Italia per ora dico per ora perché lo sapete è in discussione un dibattito importante a livello politico a Roma per vedere se confermare o meno il DPCM relative linee guida di chiusura nelle giornate di festa per quanto riguarda soprattutto il 25 il 26 e il primo di gennaio per quanto riguarda poi il grafico 25 vediamo sempre un dato di raffrontato fra la Germania e l'Italia per quanto riguarda in questo caso le terapie intensive guardate la Germania 27.042 noi tra virgolette fortunatamente abbiamo 8701 malati di terapia intensiva quindi la strutturazione italiana però da questo punto di vista è messa meglio qual è il problema però che se noi andiamo a vedere il numero dei letti disponibili in terapia intensiva in Germania è un valore nettamente più elevato rispetto all'Italia come disponibilità di posti letto quindi sì che noi siamo più bassi però ne abbiamo molto molto meno di posti letto rispetto alla alla Germania infine volevo farvi vedere il grafico 27 per giustificare tutto quello che vi ho detto fino adesso ovvero sia quanti decessi l'Italia registra nell'ultima settimana per milioni di abitanti l'Italia ha registrato pensate 75 decessi il secondo stato europeo che si avvicina all'Italia è il Regno Unito con 44 decessi per milioni di abitanti naturalmente segue la Francia è appunto la Germania che si è preoccupata notevolmente dei suoi cittadini dal punto di vista dei decessi ma anche delle terapie intensive è ha chiuso ma si è fermata 36 decessi quindi la metà rispetto all'Italia e la Spagna addirittura 14 fortunatamente per loro quindi questo è un po' il quadro generale domande Marco? la situazione sì appunto cioè non è tanto da pensare ad andare a tirarsi sì in occhio e pallonate di neve ci sta siamo in inverno è arrivata la neve se c'è la possibilità è giusto farlo però con estrema prudenza e con estrema attenzione di che cosa? di stare a distanza di sicurezza di usare le mascherine e igienizzarsi le mani se noi riuscissimo effettivamente in maniera seria a mettere in pratica queste famosissime tre io ormai le definisco banali linee guida osservazioni norme comportamentali chiamatele come volete sicuramente il numero dei contagi il numero dei positivi e quindi poi anche degli eventuali malati e eventuali decessi gioco forza si ridurranno anche nel nostro paese prima di salutare vi do il dato di Chiavari di oggi per quanto riguarda i positivi oggi sono 122 ieri erano 124 scende il numero degli ospedalizzati di questi 122 20 sono chiavaresi ospedalizzati ieri erano 23 quindi abbiamo un incremento di 6 persone rispetto a ieri di positivi chiavaresi però abbiamo 8 persone guarite quindi diciamo il saldo è a vantaggio a nostro vantaggio cioè scende il numero dei positivi di poco ma scende detto questo non mi resta altro che salutarci ritrovarci qui sempre su Entella TV giovedì prossimo sempre alla solita ora vi aspetto ciao grazie